Amici, a partire dal 30 di giugno, ogni lunedì alle ore 12, in replica alle 6.30 del mercoledì e al 20.30 del venerdì, il binocolo.net, in collaborazione con Teleriviera, vi porterà tra le antiche arti e mestieri lunigianesi. 11 puntate per un viaggio tra le maestrie dei tempi passati, partendo dalla panificazione ai testaroli, alla lavorazione della creta, fino al funzionamento di un vecchio mulino ad acqua e d'altro ancora. Queste immagini sono state realizzate ed eseguite in esclusiva per la Proloco di Pontremoli e l'Associazione Nazionale Proloco d'Italia. Per ogni altra informazione potete contattarci sui siti www.teleriviera.it oppure su www.ilbinocolo.net. Mi raccomando, non mancate e seguiteci!